IWA 2022, altra casa Italia, siamo da ADC Armi Dall'Era Casca, vi presento la prima linea delle sue carabine in 9x19. La peculiarità di questa prima linea di carabine 9x19 ovviamente è la possibilità di poterli usare in qualsiasi poligono nostro nazionale, perché comunque con il 9x19 si possono utilizzare dappertutto nei nostri poligoni e anche ovviamente per vedere il riscontro economico molto più vantaggioso rispetto a un altro tipo di carabine. Ora passiamo alla linea pronta gara, la Super Competition, vi farò vedere com'è questa carabina. Copricanna, gruppo e scatto e sicuro da competizione, leva armamento maggiorata, ambidestra e buffer pesante. E adesso passiamo alla vera novità di quest'anno 2022, nella carabina Super Comp, che adesso vi farò vedere e vi spiegherò le sue peculiarità. Super Comp, vera novità di quest'anno, apertura in relover con trattamento antifrizione e autolubrificante, otturatore con leva arma laterale, doppricanna in carbonio, calciatura regolabile in alluminio. Buffer pesante a ciclo colto. E da Casa Italia, dalle armi dall'era custom, possiamo dire le Ferrari dei fucili da competizione, vi saluto e grazie per averci ascoltato.